Ciao creatura, io sono Eccati Splendente e benvenuta, bentornata nel regno di Kudai ASMA. Buona domenica creatura, buona domenica, buona domenica, anche oggi. Grazie per essere qui anche questa domenica per questo nuovo episodio di Decore Life. Volevo salutare le poche persone che interagiscono in questi video della domenica che sono veramente di nicchia e che pochissime persone guardano, ma continuano comunque a farle per loro. Ilie, piacentini, 96, 85, che si addormenta subito. Adesso ha imparato, mette subito like, grazie per i like, creatura. Poi saluto Bo1, saluto Giorgina, grazie per i tuoi corizzini. Saluto Francesca M5337, che c'è sotto ogni video. E poi Fraffo, ovviamente, che è l'unico che è rimasto sveglio fino alla fine e ha votato quale lavandino fare, quindi fare, mettere. Quindi questa volta decide Fraffo, ok? Decide Fraffo questa volta. Non decide la maggioranza, anzi sì, perché è l'unico che ha votato, quindi Fraffo è la maggioranza una persona. E ho capito che adesso, in questo periodo, siete tutti al mare, quindi non vi stresso con votate, votate. Va benissimo anche così. Almeno c'è stata una votazione, un parere. Altrimenti avrei fatto di testa mia e avrei scelto quello che ha scelto Fraffo, quindi mi va benissimo. Ok, andiamo a posizionare il nostro lavandino. Subito, subito, subito il lavandino. Ok, ha scelto il secondo per staccare un po'. Ci sta, ci sta. Perfetto. I treat review team mi hanno sempre incuriosito come funzionano di preciso. Basta accettare gli avanzi nel lavandino, così. Ehi, non metterci le dita, è pericoloso. Top. Sbaglio, la cucina è molto più cara del salotto perché ci pretende quattro stelle invece di tre. Vabbè, andiamo a vincere, a guadagnarci. Queste quattro stelline, che in realtà sono tre, quindi dovremmo fare due livelli. Ok. Allora abbiamo un VIP. Andiamo a fare il VIP subito. Che ci dà due regali, forse. Se non ho capito male l'illustrazione. E poi ci dà ben 15 diamanti. Super top. Eccoci qua. Allora, ci sono i vicini che fa un casino. Sempre quando faccio i video io. Vabbè. Allora, c'è solo others. Ah no, c'è tech. C'è una foto di Pappo Natale. Che anche io tengo sempre una cornice con una foto di Pappo Natale in camera mia. Non è vero. Spoiler, non è vero. No, perché questo era un computer, vero? Sembrava un contenitore, porta, non so cosa. Dovrebbe essere altro. La caraffa? Forse era un pollitore. Un pollitore elettrico. Questo, qualche computer portatile è strano. Questo cos'è? Delle palline da ping pong? Non lo so. Bella comunque questa stanza. Non so cosa mi rappresenta, ma molto bella. Ah, ping pong. Basta fine. Io prima di leggere avevo già capito cosa dovevo fare, perché ormai, cioè, così proprio svelti e svelti. Ok. Niente, o non riesco mai a peccare il pallino che fa il muro al primo colpo, non ci riesco mai. E pensavo che cliccando questo fosse qualche mensola e invece ho cliccato l'armadio adesso. Vabbè. Mi piace il primo. Bello. A cacchio, anche così è bella. Mettiamo il primo. Se c'è del verde, noi mettiamo il verde, ok? Qua ricche, non lo so, mi sembra una roba. No, mettiamo questo, dai. Il movimento. Dai, tutto verde. Ma se tutto, tutto verde, tutto verde. Ok. Vediamo un po' che mobili troviamo. E poi dopo che cose, che oggetti troviamo in questo stanza che non ho letto. Cos'era la stanza del VIP? Allora. Beh, ho scelto da sola perché questa qua cos'è? Men in black? Che scomoda. Questa va benissimo. Va benissimo quella perché è verde, è preda pubblicità. Allora. Vediamo qui che cosa c'è. È talmente tanto piccola sta stanza che non ci starà nulla. Dai, apri. Perché sono curiosa. Apri, apri. Apri. Un tavolino. Sì, ci sta meglio questo. Blu. C'entra un cucchiaio. Un pifraio magico. Ok. Cosa ci sarà qui? Secondo me è una lampada. Tu cosa ne pensi? Pensalo, pensalo. Non scriverlo. Pensalo, pensalo, pensalo. Vediamo se ci abbiamo preso. Eh. Nessuno di tui si è preso. Io pensavo a qualcosa sopra al tavolo. Una scala da mettere lì a caso. Quindi per forza questa. Perché qua di vetro è bruttissimo. Ok. Anche se tutti i marroni scuri diversi. Vabbè. Vediamo, vediamo. Cosa ci sarà qua? Pensalo, pensalo. Non scriverlo. Pensalo, pensalo, pensalo. Un altro tavolino. Vabbè. Ultimo oggetto. Sarà mai un tavolino per caso? Pensalo, pensalo. Pensalo, pensalo. Non scriverlo. Pensalo, pensalo. Ecco la lampada. Ma no, vabbè. Ho detto lampada prima. Era una scala. Poi è stato il tavolino. Poi quando ho detto un tavolino. E c'è la lampada. Top. Non volevo scegliere la rossa. Ho cliccato per sbagliare su selezione. Perché era partita quanto è probabilmente una pubblicità. Ho fatto un macello. Però devo dire che dai, da quel tocco di colore. Non ho neanche visto le altre. Ma vabbè. Grazie pubblicità. È scelto per noi. Su, volta gli scatoloni. Vabbè, come insomma, si posiziona gli oggetti. Vediamo che oggetti troviamo. Che è una pianta, questo. Iniziamo a metterli in random come al solito. Tanto non c'è mai una logica. Un gioco da tavolo. Nascondiamo qui dietro il cuscino da mettere sul tavolo. E lo vuole mettere sulla sedia. L'unico posto che avrebbe senso è la sedia. E non lo fa mettere. Ottimo. Ma neanche qua sugli scaffali non lo fa mettere. Quindi per forza sul tavolino. Perché? Non ha alcun senso. Ma va bene lo stesso. Ancora questa roba che c'era anche di là dalla strega. Vabbè. Nel piantino io qua faccio tutto. Così, estetic. Non sto ricevendo neanche una stellina. Vado bene. Le carte di uno per litigare con gli amici. Ancora qua. Posizioniamole qua. Una bellissima foto qui. Io non so chi. Di... Ancora... Sta che le sire. Un'altra piantina grassa. La stanza delle piantine grosse. Io non ho parole. Oggi è dire totalmente random. Che non ha alcun senso logico tra di loro. Spostiamoli un po' più in qua. Ci stanno tutte, 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 tutte. Non troppo appiccicate. Eh no, eh no, eh no, eh no. Eh no, eh no. No, 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 no. Questa è alta. Spostiamo qua. Anche questa è alta però. Il bambù. Il bambù, 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 bambù. Ecco, mettiamo così. Per adesso, ecco, sapevo che usciva anche un cactus, un cactus, un cactus. Ah, cioè, ci sono le carte di uno fuori dalla confezione, poi abbiamo il monopoli che non ce lo fa mettere lì, qua mi fa, mettiamo gli scacchi, un'altra piantina, vorremmo metterla qui, poi c'è la pubblicità che parte di colpo, prendo di quei colpi veramente riusciti a me, non so quanti libri ci saranno, intanto li mettiamo qua, sono, che fantasia, sono stessi oggetti che c'erano sulla stanza elastrica, questi libri, come li ricordo, abbiamo fatti nella scorsa puntata, li abbiamo posizionati. Come li ricordo, ci saranno, poi ciò vuol. rosa la maggior parte delle pubblicità che escono sono tutti i giochi che mi consigliano solo che sono tutti giochi orribili cioè potrei anche potrei anche scegliermi uno di questi giochi ma consigliami qualcosa di carino no occidente no allora qua non ci sta più niente quindi vediamo qua ecco abbiamo anche pillato una stellina passa il treno nel metro il nome più grande è questo e vabbè no ci sta più niente aspetta no no quello verde l'altro verde l'altra leva ecco ok poi no sta più qua andiamo a metterli vicini, vicini, vicini accidenti vicini, vicini eccolo qua dove la mettiamo qua? chissà che libro è quello con il punteo quando ando sul non ho perso un limone signora i limoni un limone signora quale mi viene da prima di quello qua ho ovviamente la coperta ovviamente l'album la mettiamo qua abbiamo preso ben due stelline la pippia la pippia la mettiamo qui ok è stato quasi certificato di certificato di non lo so non lo so un contenitore o non abbiamo preso parte ma andrà facciamolo di nuovo qua non mi piace tutto da caso però non è che abbia proprio tanta scelta onestamente tutto scombinatissimo non non importa l'importante è che non sia appiccicato qua andiamo fino all'infinito con i libri fino a che c'è posto non lo so 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 quindi qua possiamo mettere qua anche questo perfetto un'altra coperta non ci sta mettiamo qua sotto qui abbiamo finito il posto quindi stiamo di qua l'altro contenitore di biscotti aspetta mettiamoli un po' più in qua così ci stanno tutti 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 anche se sono di forme diverse però non mi piace aspetta eh facciamo atteremo un po' il colore almeno vediamo che tanto non mi interessa ok penso che ci dà le stelline lo stesso ecco ecco niente come ho detto ma non ci sto più beh questo lo mettiamo qua dietro lo facciamo questo poi lo facciamo così libro giallo la bibbia allora ho messo le bibbie qua all'aspetto le bibbie qua e via un'altra bellissima coperta e abbiamo finito ragazzi questo cuscino io lo volevo mettere qua ma almeno quanto pare lo puoi mettere ovunque tranne che nei posti più logici ma anche qua me lo fa mettere cioè che senso ha? non lo sapremo mai molto bene ma tanto tu sei già addormentata creatura quindi completiamo la stanza così e vediamo una pubblicità qua tendiamo un po' di diamantini scarta la carta scarta la carta scarta la carta scarta yeah biscotti yeah o muffin vabbè insomma due cose da mangiare scarta la carta scarta la carta scarta no non è una cacca vero? ok ok bene va bene usciamo da qua no grazie eh ci manca un'altra stellina per completare tutto qui cosa c'è? camera da letto dieci e se non si blocca di nuovo facciamo questo ok si mette oh che bello questa manorba alla perfezione allora metterei qui così così la rinfusa guarda 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 no ma no si girano ok si può mettere per gusto secondo me si o se mettiamo qua la cioccolata qua non so no no aspetta 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 proviamo così vuoi provare così? vuoi provare così? non lo so qua mi sembrano tante quindi le metterei così le brioche che a Roma le chiamano cornetti le chiamano brioche qua a nord non so c'è la creatura le brioche le mettiamo qua si girano anche sono tutte proprio non molto ordinate devo dire ma cadono come vogliono io vorrei farle cadere così dritte oh allora sono un po' sono un po' discole un po' rebel rotolano come le verdure del frigo l'ultima volta abbiamo provato a posizionare ma rotolavano da tutte le parti anche l'uva se ti ricordi vabbè anche questi muffin ma i biscotti se li mettiamo le cirelle ci stavano i biscotti qua mi avevano messo un troppi però abbiamo preso una stellina il passaggio oddio eh qua non si capisce però guarda le cirelle le ciambe le erano di più poi poi proviamo intanto mettiamo i biscotti non ci sta tanto a parte la stellina non c'è adatto cenni con emoji con cuoricini cose varie quindi potremmo aver sbagliato tutto forse dovrò ricominciare tutto dall'inizio probabilmente però se abbiamo preso una stellina qua qua si è creato una fila nessuno ma aiuto uno alla volta mi raccomando allora sono tre quindi vanno così ho un stellino ho finalmente un emoji che ci fa capire forse forse qualcosa di giusto lo stiamo facendo ok oh finalmente questo abbiamo siamo partiti male ma alla fine ci siamo presi quindi qua sicuramente non le ciambelle il problema non so magari le cirelle andavano qua e qua andavano i maffi non ci danno un segno un cenno niente queste mi sembrano tanto e anche grandi non so ci stanno qua però qua sto aumentando vedi quindi forse andava bene lo stesso indipendentemente lo so controllami qua la barretta se si si aumenta per favore l'aiuto straborda tutto yeah va benissimo andava bene così lo stesso scarta la carta scarta la carta scarta e dai carina questa pianta molto carina dai ci sta ok abbiamo ben sei stelline quindi quattro per cosa ci sarà qua un tavolo immaginavo wow un nero scusa bianco e marrone metterei nero metterei nero per staccare un po' si abbina anche al forno ma si dai abbiamo i soldi abbiamo un sacco di diamanti perchè questo se guardi non è bianco è tipo beige quindi non c'entra nulla piuttosto questo c'entra un po' perchè è nero e questo marrone non c'entra niente non mi piace poi non mi piace come è fatto questo è un po' così aesthetic cerco io allora vediamo se ne piace pensa a quanto cibo ci starebbe su questo tavolo e quanto ce ne starà cesso visto che ne abbiamo vinti un bel po' pensa a quanto ci vorrebbe qua credo a eh devono metterci questa cosa davanti a cucinare tutto il cibo che ci starebbe su questo tavolo preferirei di no è un sogno è un sogno è un sogno è un sogno c'è un bellissimo pollo poi ma che bella questa pianta è grande non me l'immaginavo così grande bellissima cavolo se si potesse mettere davanti alla finestra sarebbe top beh la mettiamo qua bella quella pianta eh i biscotti intanto questa qua pare questa cacchina la mettiamo qua ok vicino al fond con il sushi che trovo perso altro sushi perchè boh poi loro sti sushi ma dai chi è che non lo mangerebbe poi loro sti sushi super top poi cos'era questo? mi ricordo un po' altro cibo credo basta che ecco wow super top ok ok allora qui non so ci sarà un mobile andiamo a conquistare altre due stelline oh che bello torniamo ai bei vecchi dei tempi di quanto lo facevo un altro gioco ah no i pantaloni per forza me li fa mettere qua e non appesi ah sempre per colore ok ok le magliette volendo si possono appendere o si possono mettere qua però forse forse non lo so vediamo marrone marrone grazie che almeno ci do qualche qualche cenno non lo so di far di far bene ok pantaloni da gelatoio pantaloni arancioni i cappellini qua wow questo con le porche che fashion non 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 mi da cenno non mi da alcun cenno quindi come al solito però guardiamo il buio la cappellina ci sono anche delle scatole non lo so vabbè intanto mettiamo le cose che che pensiamo siano giuste qua se mi disse un cenno ma non dice un un pifferaio magico come al solito eh sacramento come diceva mio zio con mia impregazione sacramento eh scarpe sono appena attivati di nuovo i vicini ma ogni tanto abbiamo così finito quindi non ci interessa allora io direi di appendere le maglie perchè le scatole non si possono appendere non c'è rimasto tanto spazio quindi per forza faremo così mi sembra che l'idea migliore sia questa direi anche molto eh se i cappelli noi mettiamo qua comunque quelli con le borchie è bellissimo e qua dovremmo mettere le scatole magari vediamo si è con soddisfatto sì ce l'abbiamo fatta bel lavoro la scarta la carta scarta un'altra 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 coperta vabbè a noi piacciono le coperte quindi va benissimo no grazie andiamo andiamo a decidere alla cappa una diversa dall'altra nera verde oppure bianca mi dispiace creatura ma dovrei decidere tu quindi spero che tu sia rimasto a sveglia fino a questo punto altrimenti ti scriverò sotto di andare sul finale del video magari ti dico il mio usaggio per decidere subito cosa mettere ok bene allora numero uno non ti far problemi con gli amanti ne abbiamo 124 prendiamo tutto abbondantemente numero uno che è bianca però tutto è sempre un quel bianco che non si abbina niente perchè non è bianco io lo vedo un bianco sporco un bianco sul beige un bianco caldo però c'è del verde quindi si abbina un po' le pareti questa è verde e bianca quindi questa si abbina alle pareti ma non si abbina alla cucina e questa si abbina al forno perchè è bianco e nero e lei è grigio solo il grigio nero quindi boh io non saprei proprio quale scegliere quindi faccio scegliere a te creatura se nessuno voterà ovviamente sceglierò io però io confido in fraffo quindi confido in fraffo e mi fa troppo ma mi ha fatto troppo ridere la puntata scorsa che ho detto fraffo ho trovato il phone perchè so che lui aveva perso del sushi da qualche parte anche lui quindi praticamente stiamo giocando insieme e ho pensato che intanto andiamo avanti con questa serie in estate e magari in inverno possiamo fare qualche tanto penso di finirlo ci sarà una fine di questo gioco non lo so quando faremo tutta la casa e in inverno magari prendiamo un gioco un po' più serio tipo quello l'agripino e intanto questo qua è un gioco estivo ci sta no? l'altro invece è un po' più così serio ecco e quindi questo come gioco estivo ci sta quindi andiamo avanti con questa serie poi dopo vediamo perchè ho visto che tanti hanno detto ma questa qui è leggera e bella quindi ok e e magari come il prossimo gioco quando questo sarà finito sempre se finirà non lo so perchè questi giochettini qua magari li aggiornano no? essendo per il telefono e però intanto vediamo magari l'altro per per autunno verso Halloween potremmo pensare di acquistare un gioco del genere che ne pensi? ok benissimo sì restiamo sempre in tema spero che questo video ti sia piaciuto che ti abbia fatto rilassare come sempre ti auguro buon riposino pomeridiano la domenica e buonanotte buon relax ciao creatura ora ora